La Chiesa in debito, la prima indicazione dell'Arcivescovo, è quella del debito della parola di Dio, ma cosa vuol dire essere in debito a riferimento della parola del Signore? Sì, credo che nel linguaggio dell'Arcivescovo c'è l'arguzia di dire abbiamo un tesoro così grande, così prezioso, che è la parola di Dio da annunciare, per cui non possiamo che avere un debito continuo verso chi attende questo annuncio. E l'Arcivescovo lo orienta, mi pare, in due aspetti. L'aspetto, anzitutto, della parola che ha bisogno di essere cercata e resa disponibile, semplice, a tutti. La forte insistenza su un annuncio che copra un po' tutte le categorie di persone, chi è in ricerca, chi ha già avuto una prima risposta, giovani, adulti, anziani. La parola di Dio è davvero un debito per tutti. L'annuncio della parola è una responsabilità rilevante per tutti i ministri ordinati, preti, diocesani e religiosi, diaconi e per tutti i collaboratori pastorali. Verso tutti, pertanto, sono debitori i presbiteri, nel senso che a tutti devono comunicare la verità del Vangelo. L'Arcivescovo punta poi a una formazione più attenta ad alcuni settori, ad alcune categorie. Parla e recupera qui dal Cardinal Martini il tema della lezione divina come modo di approccio al testo della Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura diventi familiare, usa proprio il termine di familiarità. E, in secondo luogo, sottolinea l'esigenza che non sia semplicemente uno studio della Sacra Scrittura, con tutti i crismi di uno studio scientifico, ma sia un approccio che diventa spirituale, cioè capace di alimentare un cammino di vita spirituale. E qui collega con il luogo ordinario dell'ascolto della parola, che è la liturgia. Quella liturgia della parola che in ogni celebrazione diventa il primo momento di ascolto, di approfondimento, che poi ha bisogno di un lavoro anche personale, di gruppo, di associazione, valorizzando anche piste già presenti in diocesi. L'arcivescovo recentemente ha incontrato i gruppi di ascolto della parola e li ha anche rilanciati proprio in questa direzione. Dobbiamo infatti vigilare per evitare che la Sacra Scrittura sia ridotta a un libro da leggere, da studiare, da commentare, da discutere, attratti dal fascino di testi di straordinaria bellezza e di ineguagliabile incisività nella storia di gran parte dell'umanità. Fra le indicazioni dell'arcivescovo che ha detto siamo una chiesa in debito, c'è quella di essere in debito della profezia. Che cosa significa questo? Innanzitutto la profezia di per sé è una dimensione fondamentale del popolo di Dio. Il popolo che sorge dal mistero pasquale, dalla morte e dalla risurrezione di Cristo, è un popolo di per sé profetico, quindi è una delle dimensioni costitutive. Quindi essere in debito della profezia vuol dire vivere fino in fondo, diciamo, nei confronti della Chiesa e del mondo. La profezia che lo Spirito Santo sempre suscita all'interno della Chiesa. Poi mi sembra che l'arcivescovo ha sottolineato anche una declinazione particolarmente felice di questa profezia di cui siamo in debito nei confronti della società e del mondo. Vanno a dire la dimensione della comunione, quindi di un rapporto nuovo, bello, positivo tra le persone. E davvero questa è una profezia di cui si sente tanto la necessità e veramente la Chiesa, a partire dal dono di Cristo, del suo corpo, del suo sangue, è abilitata ad essere un soggetto di comunione che promuove comunione con tutti gli altri soggetti. Da questo punto di vista, come suggerisce proprio il suo intervento l'arcivescovo, la comunione è proprio una grande alternativa, possiamo dire, a un po' l'individualismo con cui spesso le persone si concepiscono, si trattano. Ma dall'altra parte la comunione è anche contro l'omologazione, cioè un appiattimento delle differenze. Contro le contrapposizioni, contro le indifferenze, contro il risentimento e l'incomunicabilità, la Chiesa, cioè tutti, tutti i battezzati, nella pratica lieta della carità che ci unisce, deve essere il segno che è possibile, è bella, è doverosa, l'intesa, il perdono, la condivisione premurosa, l'attenzione reciproca, la benevolenza, la stima. Poi c'è anche un altro aspetto che mi ha colpito molto del suo intervento, e dice giustamente la profezia è opera dello spirito all'interno del popolo di Dio. C'è anche riferimento al concilio, alla Lumen Gentium. Qui si fa riferimento a due dimensioni molto belle, proprio riferimento all'Umen Gentium. Innanzitutto il fatto che questo popolo è un popolo profetico perché ha il senso della fede. Non solo appunto i preti, i sacerdoti hanno il senso della fede, ma anche i fedeli, in forza del battesimo. Quindi vuol dire questa sensibilità, un po' come dire appunto sopranaturale, che fa capire al popolo di Dio se una cosa corrisponde al Vangelo oppure no. Non solo, ma è anche quell'istinto spirituale che permette di capire come muoversi dentro le situazioni nuove. Ecco, lo spirito della profezia è proprio questo senso della fede che ci fa così cogliere qualcosa di nuovo, che vale la pena sottolineare. E poi l'altro è la dimensione dei carismi, no? Lo Spirito Santo rende questo popolo profetico attraverso tutti i carismi, condivisi, personali, che distribuisce nel popolo di Dio proprio per questo. Perché il popolo in ogni tempo sia capace di vivere all'altezza della sua missione. Grazie a tutti.